Come ti chiami? Samantha Di cosa ti occupi nella tua vita? Progetto case e dirigo cantieri Marco, faccio il geometra, costruisco case Giovanni, tante cose Roberta, faccio il geometra e sono mamma Massimo Ucalossi E ristrutturazioni di vecchi centri storici Chiara, faccio il geometra Quando hai capito che sarebbe stata questa la tua strada? Da sempre, a tre anni, giocando con le squadrette di un amico geometra Quando da piccolo ho visto mio padre Che buttava delle idee su un pezzetto di carta E le trasformava in un progetto All'età di sei anni, l'hanno capito più i miei genitori che io Quando la mia professoressa di chimica mi ha detto che avrei fatto rappresentante Da piccolo mangiavo pane e mattoni Quando ho pensato chissà come sarebbe bello progettare la propria casa Quando, come geometra, ti sei sentito davvero utile agli altri? Mi sono sentita utile dopo il terremoto Occupandomi della ricostruzione della mia città, l'Aquila Abbiamo insegnato a dei tecnici somali a utilizzare il GPS e i sistemi informativi geografici Quando abbiamo recuperato delle reliquie di un santo Mentre smantellavamo un altare Quando ho realizzato una piscina per disabili Mi sento utile tutti i giorni, ma soprattutto da quando insegno a scuola All'Uvione di Asti del 94 c'era mezza città da ricostruire e io c'ero Si deve studiare molto per praticare la tua professione? Se lo vogliamo fare bene, sì, dobbiamo impegnarci È come nelle buone ricette, QB, quanto basta? Ci vuole molto impegno È un lavoro che ti fa studiare giorno per giorno nuovi problemi e nuove soluzioni Quando frequentavi le scuole medie, eri più bravo in geometria o in educazione fisica? Educazione fisica Educazione fisica In musica Si diventa ricchi facendo il geometra? Potresti diventare ricco Ricchi di esperienze Da cosa si riconosce un buon geometra? Un buon geometra è quello in grado di districarsi tra le situazioni più spinose Venendone a capo e mantenendo un ottimo contatto umano con i propri clienti È proprio perché sa ascoltare, capire e proporre soluzioni Perché se come me si appassiona ogni cosa che fa Se i geometri non esistessero, la vita sulla Terra sarebbe la stessa? Leggermente più triste No, forse sarebbe un po' peggiore Che cos'è un drone? Un drone è la nuova fontiera del rilievo Un drone è uno strumento fighissimo che si comanda con dei joystick E serve per volare in aria e fare delle riprese da vedere poi su PC Quali di questi tre strumenti non ti dovrà mai mancare? Una matita, un tablet, un ovetto di cioccolato? Un ovetto di cioccolato Sicuramente una matita Un tablet, una matita, un ovetto di cioccolata Vediamo se sei aggiornato Che differenza c'è tra il CAT e l'Istituto Tecnico per Geometri? Il CAT è un'evoluzione dell'Istituto Tecnico per Geometri È stato concepito per migliorare la preparazione del futuro geometra Direi più attuale rispetto all'Istituto Vecchio Con il CAT il mondo del lavoro è entrato nelle scuole Il CAT è più completo Potresti dirmi un aggettivo per definire il nuovo CAT? Una buona scuola tecnica Ambizioso Futuristico Moderno È vero che i geometri sono noiosi? No, assolutamente Qualche volta sì, qualche volta anche Ci fai una faccia divertente? La tagliamo però, vero?